ma che cazzo fa questo qui non è capace di spazzar guarda 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 è una bella milfa che ha detto che è una bella milfa ma questo è una fila io ho detto ma è carino guardato un attimo tornato un attimo andrea come per di mare sarà fidanzata gol no gol della merda e io sono quando invece che guardare viva bello io mi seguo su akimi però questo non lo puoi caricare questo se per mal disgrazia finisce nelle mani sbagliate siamo rovina di tutti momento di sfondare il top record bellissimo come no niente stavolta cazzo questo quale sta prendendo 4 e 25 minuti sarà anche devastante ma ora come ora sta un po facendo ridepogli però ma ciro guarda ciro come spacca la porta e sono contro dai 3 tiri in porta 3 costo bastardo non glielo proporrei per fortuna non è andato in porto bello il sergente ragazzi si parla bello il sergente del sergente bello 7 a 3 ma fuori gioco no gol è contento lui che perde porco di gioco no gerardo dai più con una partita più con una partita che tutte le altre la ripiegherò oh merda oh merda no case 1090 di città no c'è le porte scariche qualcosina online arriva 13 cazzo l'ho spostato bomba spacchiamo le porte tothalo assist bene dai bene ce l'ho schiocca di 3 prima cazzo l'ho spostato bomba spacchiamo le porte che si ammazzano da soli tothalo e poi sbocca ho fatto 4 valo uguali nooo bella cazzo è davio no van der sar no super come è del capo non fa le stesse cose di quadrato Ma perché le fai? Perché le fai? Perché le fai? Non ho mai preso gol così. Simo, però, questo è pezzo. Eh, cazzo, al sesto gol. Sì, lo sai che i drapponi lo faceva prima, vero? Gol. Gol. No, polizia. Rosso. No, non lo so. Non ho le capacità. Sbattuto. No, Allison. Va bene. Tocco. Giù. Vai. Vai. Ho detto. Ho detto che lo giappavo. Bello. 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 Bello di qualcuno. A me non mi sembra così. Però vabbè. Vabbè perché lo sa che c'ho. Bello. No. 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 Vabbè con 2004. Vabbè con 2004. E. 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 Bello. Cosa. Su. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Bicchia. Papu di testa. Papu di testa è mezzo a due amico mio sotto terra. Ciao. Su. Tonnali. Deu. Ciao 2004. Su. Non goloide. Bello. Ciao. Danovic in porta Impenetrabile aiutami a dire come si fa come si dice sta parola impenetrabile così che sicuramente non arriverà Ma io mi chiedo perché Andano non ci si sieda No non è tanto forte Però Andano ci dovevi usci prima sei un coglione Che culo Ti giuro se non facevo qualcosì è veramente scandaloso Finita abbiamo perso Bravo Goal Goal Finita sta partita ormai Dai 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 Tutti i base Dai E calma Con calma Con calma cosa 2 a 0 Vai Sì perché questo qua è sbagliato Ah beh dai Non è un pareggio Lo so ma infatti l'ho fatto piano No no È buono È buono È buono Allora direi che è un Sì L'ultima volta che l'Epert l'aveva vinto Dunfield 20 anni Sì Regolare Cioè ti rendi conto non vincere Bastardo Come ti permetti Dalto Guarda ti faccio vedere come si fa il zoom Così Su E ora se vi te faccio durato 150 anni Guarda la guardi Venta perché C'è di te BOLMA Bella la porta scoperta Vi faccio vedere tutto Sì Per questo Sono incredibile Sì 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 No Iniziamo Se non lo siete Siete scemi Dove nemmeno Anche i vostri Goli E Errato che riescano A Oh Fatevi un pacco da lui Va bene Va bene Però dovevi tirar prima Non hai capito paura Sì Sì Bene Bene Questa parte è vincibile Sì Sì Ma che vuol dire che Lukaku stia bene Oddio ho fatto un altro Che vuol dire che Lukaku stia bene Che senza Lukaku fate nulla No Per render duro Bello Un altro gol di Neymar No Quattro gol Neymar Bello Il circonciso Nel gol Su 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 Porca Puntonali E Su Mi chiamo i rezi Va bene Oddio Domani sera Oh cazzo Lai nel culo Col Bene E E E E E Torniamo Su Pappu Gomez Pappu Gomez Oh come se lo fotte Non l'ha neanche Su Su Oh Apparello Ciao Su Su gore ma nooo gli ho dato un bacio sei un figlio di troia aia ti vedo gol da 3 a 1 gol no però che palle non vale dai però mi sta sul cazzo questo non si può toglierlo cosa pochi il bastardo dai oh e dai cazzo cambialo cambialo vabbè comunque avrei fatto gol bene vai parti gomez te l'ho detto si papo è rimasto in piedi pop fallo fuori meglio di nulla eccola boom sargei suuuu bello no quitti dove era? no volevo la telecamera ahahahahahah ahahahahah lisa capitale col tuosterno adenso al suolo quello nuovo veramente Iguain davanti così a caso Lautaro 87 eh, chiappa lozano Contropiere il mulinello ma da dove cazzo segna Oh no! Pollo? No dai! No, no, è presto, è presto, prendiamo la palma! Oh! Bello! Pollo, pollo, pollo! Vai, zoom! Zoom! Bello! Ti ho detto che scesi in una calza di sapore? Sì! C'è una base di pala? Bo! Ma che portiere di merda c'ha! Io ce l'avevo eh! No! Quattro a due rigore wow c'è troppo eh ultimi tre rigori è un po' crato la prestazione ma che cazzo ho fatto Andanovic sono un clown poppy poppy tagimi 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 mamma mia mamma mia signori è brutto fatto malissimo eh vaffanculo per Mbappé attenzione si deve richiudere la difesa della Bucchina Faso oh Bruno Fernandesi troppo sono però madonna vinter ho parlato male della Lazio oh perla no bella gol regolare regolare si gol gol battibile 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 papu giro giro la vedo la vedo pigia guarda non ci credo ma ci credo che cazzo è sto qua ahhh no lì c'è la sergente liberissimo bella bella come lui te l'ho detto bella un attimo tranquillo l'azio un attimo tranquillo donnali giro giro oh tripletta di giro andiamo andiamo al bar a festeggiare ahahahahah oddio questa squadra mica di cattura che stranamente oh cazzo dai ma davvero oh bello oh ok dai suuuu douglish nooo ma tutti così scusami rigore rigore eh come ibra guarda mamma come ibra momento suuu gol tutti rimpalli ma ti da morta lo so lasci ti dissaccio gol si va si va mi sono toccato mi ero qui ciao